L'impegno di Sapienza in termini di varietà di genere è un impegno che si declina in tutte le sue mission, quindi sulla didattica, sulla ricerca e sulla terza missione. Sulla didattica è un'offerta formativa che ovviamente tenga conto dell'importanza di una formazione dedicata alla parità di genere, un nuovo corso di studi dedicato a media e comunicazione con un taglio appunto sull'attività di tipo di leadership femminile, ma che veda proprio negli strumenti della comunicazione questa cifra colorata al femminile. Delle attività, questo rientra non solo nella parità di genere, ma è un tema di inclusività e di lotta contro le discriminazioni, dalle molestie a quant'altro, con un'offerta anche che sarà molto organica dal prossimo anno accademico, con dei crediti formativi dedicate a queste attività. Sulla ricerca un focus particolare sulla medicina di genere che è stata ampiamente strutturata dai colleghi delle facoltà mediche di Sapienza e sulla terza missione con tante attività che escono fuori dalle mura dell'università che si rivolgono al territorio.